È sempre più chiaro il ruolo della proteina telomerica TRF2 nella formazione e progressione dei tumori, grazie a uno studio i cui risultati sono pubblicati quasi in contemporanea in due articoli. Il lavoro è stato condotto da ricercatori dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, guidati da Anna Maria Biroccio. TRF2 compare in eccesso in diversi tipi di tumori e in particolare nel cancro colon rettale. L'importante tassello aggiunto dalla recente ricerca aiuta a chiarire ulteriormente le funzioni della proteina che sembra agire in due sensi. Da un lato regola la risposta immunitaria dell'organismo contro la neoplasia e dall'altro favorisce il processo di angiogenesi, ovvero la moltiplicazione dei vasi sanguigni che alimentano e fanno espandere il tumore. Si tratta di una scoperta rilevante, secondo quanto spiegato da Gennaro Ciliberto, direttore scientifico IRE e pubblicata su due tra le migliori riviste internazionali del settore, che apre la strada a nuove strategie di cura per tumori del colon retto che non rispondono a terapie tradizionali. La ricerca si è svolta in stretta collaborazione con il gruppo di Eric Gilson all'IRCandiniza. I risultati ottenuti grazie al brillante lavoro di due ricercatori del mio team, Pasquale Zizza, Roberto Di Mani e Manuela Porro del gruppo del dottor Leonetti, hanno permesso di far emergere TRF2 quale interessante bersaglio terapeutico per tumori del colon retto. Gli sforzi del gruppo sono adesso mirati a identificare farmaci e piccole molecole di RNA capaci di inibire l'espressione della proteina TRF2 da utilizzare da soli o in combinazione a farmaci antitumorali nei tumori del colon che presentano mutazioni di crass, per i quali attualmente non sono disponibili terapie efficaci. Il cancro del colon retto rimane la neoplasia più diffusa in Italia, in particolare per la popolazione femminile, di cui rappresenta la seconda in ordine di incidenza, mentre è solo al terzo posto negli uomini. Risulta importante agire a livello preventivo per ostacolare la formazione del tumore, che deriva dal proliferare delle cellule della mucosa intestinale, che impiegano mediamente tra i 7 e i 15 anni per trasformarsi in forme maligne.